Ciao cari amici, come va? Oggi vi presento questa mia nuova creazione, è una cigar box che ho realizzato utilizzando un badire, una pala in metallo, le ho montato tre corde, le ho messo un pick up e vediamo come suona. Per l'utilizzo ci va lo slide che è doveva avere in tasca, aspettate un secondo, eccolo qua, ecco qui lo slide. Questo è il suo suono, però c'è un particolare su questo suoneto che è molto carino. Quello che si può utilizzare anche come la percussione. Infatti se io vado a battere sulla parte di metallo qui... Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.